con cautela exotic febbi tra quelli della prima fila piano anche in corda eddy nazionale parte forte epicuro luiz al centro dello schieramento e viene inseguito da episodio jet epicuro luiz batti strada nei confronti di episodio jet che trova posto nella sua scia l'errore per eddy nazionale all'esterno l'avanzata decisa di entrapment call che va a chiedere e ottenere strada da epicuro luiz ma vede già materializzarsi al suo esterno la sagoma del contro favorito exploit che va deciso sull'avversario cerca la mossa in contropiede alessandro gocciadoro exploit sopra avanza entrapment call che reagisce all'interno i due sono in lotta violenta dopo 600 metri exploit finisce con lo sbagliare resta allora in largo vantaggio entrapment call seguito adesso a una trentina abbondante di metri di da epicuro luiz episodio jet el cocero griff exotic febbi e ancora eddy nazionale completamento del primo giro di entrapment call in 1 13 e 4 è ancora vantaggio notevole anche se epicuro luiz sta ricucendo gradatamente il gap si muove all'esterno il cocero griff dalla quarta posizione va al salchi di epicuro luiz sta scendendo l'esterno di febbi sotto il pungolo di el cocero griff e completa il miglio in 1 59 2 entrapment call in vantaggio su epicuro luiz che cerca di rimontare all'interno il cocero griff trapment call si è ripreso e affronta in vantaggio la retta d'arrivo sempre in seguito del cocero griff poi epicuro luiz e ancora episodio jet entrapment call in vantaggio epicuro luiz che filtra all'interno di el cocero griff e prova ad andare sul leader poi gli altri più indietro nel finale entrapment call che si è ripreso alla grande e vince davanti a epicuro luiz e el cocero griff per i numeri 3 4 2 questo l'arrivo ufficioso della terza di capannelle 2 e 30 sul mio cronometro l'ultimo quarto più lento in 30 e mezzo intervento della giuria mentre rivediamo entrapment call che taglia per primo il traguardo con roberto luo davanti a epicuro luiz e el cocero griff ma è tutto subiudice linea lo studio grazie a tutti grazie a tutti Grazie.